buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è l'ultimo giorno di carnevale quindi prepariamoci all'ultima possibilità di derogare un po alla vita normale di tutti i giorni con qualche intemperanza ma ovviamente tutto nelle regole e tutto nei limiti concessi comunque molte le tradizioni per salutare questo giorno e da domani da domani comincia la quaresima è un periodo di penitenza insomma soprattutto di riflessione e di morigeratezza comunque passiamo subito attraverso l'almanacco del giorno per poi leggere insieme i giornali e vediamo che si festeggia oggi oggi sono due le sante che vengono venerate dal calendario santa fosca e maura vissero nel terzo secolo nella persecuzione di decio anche qui abbiamo delle martiri fosca a 15 anni si fece cristiana insieme alla sua nutrice maura maura è un nome che discende da mora probabilmente era di origini africane arrestate entrambe furono condannate a morte con la spada dunque furono martirizzate santa maura comunque è considerata un modello per quanto riguarda le nutrici cristiane le nutrici probabilmente ora sono molto rare sono sempre di meno un tempo un tempo erano molto molto diffuse comunque chi allatta un bambino anche non suo ma anche suo può invocare santa maura ed ora vediamo le previsioni del tempo ecco la grafica oggi sulle marche abbiamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino tesi da nord ovest al pomeriggio tesi da nord nord ovest il mare è poco mosso e temperature 7 la minima 13 la massima il sole sorge alle 7 11 e tramonterà alle 17 e 31 questo per quanto riguarda l'inizio della giornata è quello che ci aspetta nel corso della stessa allora apriamo i giornali partendo dal resto del carlino e vediamo in apertura un articolo di cronaca un articolo di cronaca per l'arresto di un ladro impenitente così viene definito un uomo di colore un 26enne gambiano che un mese fa era stato pizzicato mentre compiva un furto e poi l'ha ripetuto un altro e quindi veramente un impenitente ladro impenitente beccato ancora agenti aggrediti scattano le manette resterà in carcere il 26enne gambiano che un mese fa mandò in frantumi la vetrina del leap back e picchiò anche i carabinieri ieri una nuova incursione e a fosse o sei ore dove però ha trovato la polizia ebbene diamo un'occhiata a questo evento insomma che è veramente ripetitivo dopo essere stato arrestato in flagranza per un furto che era stato sventato nel negozio di abbigliamento leap back di poche settimane fa e il gambiano 26 anni ormai tutto noto in città per le sue intemperanze insomma ne fa veramente di tutti i colori qualche volta lo si trova anche al ticcio ed è molesto insomma non è un tipo tranquillo ebbene l'uomo senza fissa dimora ma domiciliato a mondolfo spesso lo si vede a fano e ora si trova rinchiuso a villa fastigi per questo nuovo atto al di fuori del regolamento del del reato insomma e ha compiuto a fosso sei ore ed ora vediamo ancora la protesta dei residenti del centro storico per quanto riguarda la carenza di per di parcheggi e questo questa invocazione di avere più posti macchina per coloro che abitano che risiedono quindi che vivono in centro storico è stata convalidata dall'associazione ambientalista lupus in fabula che chiede dei varchi elettronici per tutti coloro che non risiedono nel centro storico che vogliono entrare in città gli ambientalisti condividono le proteste dei cittadini che insistono nel chiedere un confronto con l'amministrazione comunale nei giorni scorsi l'assessora alla viabilità barbara brunori ha così evidenziato tutto il programma di parcheggi che sta per essere messo in atto dall'amministrazione comunale ma i residenti vogliono essere compartecipi vogliono essere ricevuti dall'amministrazione comunale per dare anche loro le loro indicazioni e questo al momento non è ancora avvenuto e allora parliamo di carnevale perché anche ieri si è svolta un'iniziativa curiosa ed interessante della città di fano un consiglio comunale sui generis presieduto dal sindaco del carnevale il rabacchè di pesaro che ha dialogato in maniera anche molto molto tumultuosa diciamo così con la maschera tradizionale delle carnevale di fano il volon ebbene in piazza il derby della pizza la volona sfida la rossini questo invece il titolo riguarda riguarda tutte le iniziative che si svolgono oggi ultimo giorno di carnevale con il rito del rogo del pupo che insomma segna la fine di tutte le trasgressioni oggi in piazza comincia un programma veramente molto nutrito un ricco cartellone di eventi approntati per il martedì grasso allora si comincia alle 15 30 in piazza 20 settembre quando andranno in scena le associazioni che coltivano le danze popolari abbiamo la musica dell'anima in collaborazione con l'associazione ice pod e il gruppo folcloristico limatti di montecò a seguire the robot light show dialoghi e musica con mechanic bionic e l'ingegnere quantistico stellare insomma anche qui l'intelligenza artificiale fa il suo ingresso nel carnevale e poi ancora la sfida tra il rabachenne e il volon per chi fa la miglior pizza e qui abbiamo la pizza rossini con un'altra pizza che verrà confrontata per quanto riguarda il sapore ed è la pizza volona una pizza originale fatta a base di margherita pancetta rotolata cipolla caramellata alla moretta pensate che cosa viene fuori ma sarà curioso anche assaggiarla e poi alle 17 15 ci si sposterà in duomo questo spettacolo molto interessante per il mio grido giunga fino a te della compagnia ex novo con la partecipazione della cappella musicale del duomo e questo inserimento del sacro nell'ultimo giorno di carnevale è un'iniziativa originale dal punto di vista culturale anche molto molto interessante e poi e poi alle 18 e 30 si torna in piazza 20 settembre per la riconsegna delle chiavi dal sindaco del carnevale il rabachenne al sindaco effettivo della città massimo seri e poi il rogo del pupo e così tutto se ne va in cenere ma non solo perché alle 21 alle 21 e segnatevi questo appunto alle 21 qui a fano tv ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del carnevale e vi ricordo che il primo premio è una bella crociera quindi un premio molto molto sostanzioso l'appuntamento dunque alle ore 21 su fano tv e parliamo ancora di carnevale per quanto riguarda le altre località come per esempio nella val cesano qui abbiamo un articolo con un fondo violetto che appunto evidenzia questa iniziativa la val cesano non è da meno piovono coriandoli e dolciumi tra oggi e domenica in val cesano si svolgeranno cinque manifestazioni dedicate al carnevale mentre gli appuntamenti di oggi a partire da san costanzo dove ci sarà una sfilata in maschera per bambini a marotta alle 16 e 30 nella sala ciria che su organizzazioni della ludoteca comunale andrà in scena una festa per bambini da sei anni in su e sempre oggi alle ore 16 festa per bambini con animazione all'oratorio di san lorenzo in campo quindi san costanzo marotta san lorenzo in campo sono quelle di oggi e poi ce ne saranno altre fino a domenica ed ora parliamo di politica perché la campagna elettorale è sempre in atto e si sta riscaldando sempre di più in vista delle prossime elezioni che dovrebbero tenersi a giugno ebbene qui abbiamo un articolo anzi un'intervista che riguarda il candidato sindaco giuseppe de leo pure de leo si dà ai sondaggi valgo il 10 per cento ha dichiarato ebbene ha commissionato un sondaggio ad una società milanese mi sembra vediamo sì ad un'agenzia milanese un sondaggio dal quale si rivela che il partito democratico varrebbe il 10 il 18 per cento in questo momento la lega che tira luca serfilippi candidato sindaco per il centrodestra vale sulla piazza intorno al 9 per cento quindi ci sono i grillini che alzano un 7 per cento ebbene non si parla a di fratelli d'italia sono anche loro e quindi anche loro avranno una certa percentuale ma dal giornale non è evidenziata de leo de leo invece avrebbe un 10 per cento anche se le intenzioni di voto vardiano di settimana in settimana insomma sono ancora quegli incerti gli indecisi gli ondivaghi e ancora non hanno deciso una volta propendono per una parte una volta per l'altra parte e ci sono delle dichiarazioni un po così curiose per esempio maurizio gennari domanda a de leo va con luca serfilippi o lo schieramento di centrodestra ebbene de leo risponde loro pensano di vincere ovvero il centrodestra ma io ci credo poco basti pensare solamente un fatto dopo la candidatura di serfilippi non si è mai tenuta a una riunione dei partiti che compongono il centrodestra e quindi leo de leo come si pone figuriamoci se io faccio campagna elettorale per serfilippi ha dichiarato io cammino per conto mio e poi vediamo tra quattro mesi come va a finire e a guzzi secondo lei cosa fa non credo proprio ha dichiarato de leo che l'ex sindaco a guzzi farà la campagna elettorale per serfilippi non ci credo nemmeno se lo vedo sembra che poi de leo conosca bene a guzzi in quanto è stato per anni il suo direttore generale quando a guzzi era sindaco del comune di fano passiamo alle altre notizie sul treno con la bici spazi risigati e barriere dappertutto e la protesta di un passeggero per quanto riguarda il treno regionale ci sono pochissimi posti per trasportare le biciclette solo tre alloggiamenti che si riducono a due biciclette possibili con barriere architettoniche insormentabili ha detto appunto questo passeggero e poi vediamo la iniziativa che è stata presentata con grande evidenza ieri nella sala morganti del museo civico di fano si tratta della settimana che fano dedicherà alla cultura essendo compartecipe di tutte le iniziative di pesaro capitale nazionale della cultura per quest'anno ebbene una serie di iniziative che punta molto su un festival di carattere ambientale circonomia da ferrara caro figlio per parlare di circonomia di cinoni circonomia questo è il tema scelto un tema ambientale che caratterizza c'è anche un inizio un po polemico da parte del resto del carlino il quale dice che vengono dimenticate un po tutte le caratteristiche che sono veramente intrinseche nella cultura fanese ovvero la città romana quella medievale la città della fortuna la città del carnevale la città dei bambini e delle bambine la città di vitruvio ma di tutto questo nella settimana in cui pesaro città della cultura accenderà i suoi riflettori su fano non c'è traccia tutto è concentrato sulla sull'ambiente e sarà questo festival che poi è anche un festival l'importato che viene da alba che durerà qui quattro giorni con una anteprima il 5 insomma dal 7 al 10 si saranno dal 7 mi sembra al 10 marzo ci saranno anche altre iniziative poi con quella di preapertura del 5 ci sono convegni mostre seminari insomma tutto si concentra in questi giorni il 90 per cento delle iniziative si svolgeranno al teatro della fortuna abbiamo anche delle altre location si parte innanzitutto dal sala morganti dove è esposto appunto il la pala del perugino appena restaurata dall'istituto di pietre 2 di firenze vediamo le altre notizie passiamo a san costanzo mezzo milione di marciapiedi più sicurezza per i pedoni fermamente un bellissimo intervento sulla strada mondolfo che si estenderà per circa 330 metri ecco qua il marciapiede in fase di costruzione che assicurerà la sicurezza a coloro che passano che che transitano a piedi a urbino a urbino c'è una bella iniziativa di ricerca da parte della università riscaldare gli edifici dal sottosuolo trovare una fonte di energia geotermica lo sfruttamento della geotermia conta sempre più esempi nel nostro territorio grazie alle ricerche agli studi dell'ateneo ducale l'ultimo caso interessante quello della nuova scuola di fermignano che viene appunto riscaldata in questo modo ma ci sono anche altre scuole e altri edifici come per esempio il santuario di castaccolo il nuovo asilo nido comunale di fermignano e la stazione ferroviaria di fano saranno questi gli edifici che verranno riscaldati con questa forma di energia e poi anche a urbino ovviamente si parla di elezioni e il sindaco per par condicio toglie le deleghe che aveva dato ai consiglieri comunali che si propongono per essere eletti in modo da porre tutti sullo stesso piano elezioni dietro l'angolo revocate le deleghe gambini il sindaco dice una scelta condivisa con i quattro consiglieri che avevano avuto queste deleghe così che la campagna elettorale saranno al pari degli altri chi sono questi quattro consiglieri sono laura scalbi che in quota a forza italia poi abbiamo nicola rossi che era all'urbanistica massimiliano sirotti presidente del consiglio comunale lino michelli che mese fa deposto la delega della protezione civile mantenendo quella partecipata di urbino servizi vediamo ora ancora le notizie del resto del carlino per quanto riguarda invece la città di pesaro e la notizia che in realtà riguarda un po tutta la provincia si riferisce all'inizio dei lavori per l'apertura della guinza la guinza si risveglia come fosse un enorme orso in letargo dopo tanto tanto tempo la guinza si risveglia dopo 30 anni affidati i lavori per aprire la galleria sarà resa percolibile entro il 2026 ci vorrà ancora tempo ma bisognerà vedere poi se sarà messa in connessione con gli altri tratti di strada sarà comunque a senso unico non vi potranno passare più di 2000 veicoli al giorno e il transito sarà così rigorosamente vietato ai camion e quindi e quindi ancora ci vorrà molto molto tempo perché questo valico questo ostacolo della viabilità tra Marche e Umbia venga completamente superato e poi abbiamo anche chi protesta per questa accelerata dei lavori sono i residenti insomma che hanno più intenzione di favorire il traffico verso la costa che quello verso il centro Italia parliamo anche di sanità perché vediamo che la clinica privata di Pesaro quella di Villa Fastigi comincia a macinare Cotignola 2 a Villa Fastigi ok del Consiglio Comunale sanità privata inevitabile anche se la tendenza del Consiglio Comunale di Pesaro è quella di favorire la sanità pubblica anche quella privata serve soprattutto serve per limitare la mobilità passiva ebbene si parla dunque del colosso della sanità GVM di Ettore Sansavini che è anche proprietario della clinica di Cotignola il nuovo servizio che verrà aperto a Villa Fastigi punta a garantire specialità come l'ortopedica traumatologica l'area cardiologica interventistica cioè quelle dove si resistono veramente i picchi della mobilità passiva ovvero quando i cittadini di Pesaro e delle Marche vanno a curarsi in Emilia Romagna perché nelle Marche non trovano il servizio adatto alle loro esigenze ebbene questa clinica potrà coprire questo vuoto multe da pagare per 6.000 euro e nessuno ha voluto aiutarmi purtroppo un cittadino si è visto arrivare addirittura una serie di multe per l'invasione della ZTL da parte del figlio di per 20.000 euro poi ridotte dal giudice di pace a 6.000 euro comunque è una cifra veramente importante e onerosa anche 6.000 euro ebbene che cosa era accaduto? Era accaduto che il figlio aveva ottenuto un permesso che lui credeva gli permettesse di entrare sotto i varchi controllati appunto del centro storico invece così non era e tutte le volte che è passato avanti indietro senza essere avvisato che quel permesso non era valido ha avuto una multa pensate ne ha avute 202 e ora deve pagare il padre e sono 6.000 euro veramente una cifra molto molto importante. Vediamo anche un ultimo articolo che riguarda la pagina di eccola qua sì la pagina che riguarda un argomento d'arte il gioiellino che nessuno ha voluto l'autoritratto del seicento va agli uffici si tratta di un'opera firmata da camilla guerrieri camilla guerrieri una pittrice di fossombrone figlia di un noto pittore del 1600 francesco guerrieri un pittore che si che si inserisce nella sfera del più grande pittore del seicento che tutti noi conosciamo il pittore non so che ha fatto tanti tanti quadri che è stato prigioniero a malta che poi è venuto a è tornato in italia sotto una condanna del papa e poi è deceduto e lascio a voi scoprire il nome di questo grande grande pittore che ha così condizionato molto la pittura del periodo barocco insomma i primi del seicento un grande pittore con il chiaroscuro con le luci le ombre e sappiamo benissimo appunto chi è comunque non parliamo di di lui ma parliamo di camilla guerrieri figlia di francesco ebbene l'antiquario ciaroni e aveva questo quadro che ora è esposto al museo degli uffizi di firenze vediamo ora la pagina del corriere adriatico l'apertura è dedicata eccola qua vediamo un attimo di trovarla eccola è dedicata alla situazione dei parcheggi così come viene denunciata dal comitato delle residenti del centro storico la situazione parcheggi nella ztl simbolo del mancato confronto è quello che essi chiedono di essere coinvolti di essere con partecipi nella redazione del piano dei parcheggi e poi centrosinistra allargato l'intesa appesa al no alle primarie bocche cucite e tensioni ma anche il rebus facile di ser filippi che resta in attesa insomma è molto molto difficile trovare l'intesa sia nell'ambito del centrodestra che nell'ambito del centrosinistra per quanto riguarda la politica affanese e mai le elezioni sono abbastanza vicine insomma siamo a giugno mancano pochissimi mesi e ancora un po l'elettorato appare disorientato di questa difficoltà delle forze politiche di trovare una quadra sia per quanto riguarda le alleanze che per quanto riguarda poi i programmi e i candidati stessi una settimana da capitale fanno parte di circonomia grandi nomi al festival della transizione ecologica tra questi caro figlio e cucinella questo è un po il programma che è stato enunciato nella giornata di ieri e poi il carnevale dalle pizze al rogo il pupo o al rogo del pupo il carnevale saluta e qui insomma adesso non sto a ripetere il programma che abbiamo già visto nel resto del carlino passiamo allora sempre a fano e parliamo di una notizia di sport perché il comune di fano impiega 160 mila euro per organizzare tutta la manifestazione della tappa che avrà farà riferimento a fano del giro d'italia 100 mila euro sono i contributi della regione 60 mila euro sono invece le risorse che il comune di fano trarrà direttamente dal suo bilancio la regione si fa carico di altri 100 mila lo dice appunto il titolo alla carovana rosa torna in città dopo 12 anni un percorso da definire nella val cesano numeri e selezioni delle vie ecco la verità sulle asfaltature e il presidente della provincia replica sebastianelli insomma in questi giorni c'è stato veramente un dibattito tra sebastianelli e paolini per quanto riguarda la viabilità e ora abbiamo invece la replica del presidente ma non abbiamo più tempo per andare oltre quindi chiudiamo i giornali e così terminiamo la nostra rassegna stampa l'appuntamento è domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti